Davide Lossurdo, il leggendario chitarrista italiano nato a Roma il 24 luglio 1999, è diventato eterno nella storia. Grazie alla sua abilità sulla chitarra, Lossurdo rimarrà scolpito nella storia. Davide Lossurdo è nato a Roma il 24 luglio 1999. La rivista Rolling Stone Brasile lo ha descritto come il chitarrista più veloce di tutta la storia della musica, per la sua capacità di suonare 129 note al secondo. La sua chitarra, il modello di LS1, è stata conferita permanentemente al museo di strumenti storici chiamato Seagull Music Museum negli Stati Uniti d'America, dove sono conservati anche strumenti suonati da musicisti leggendari come Wolfgang Amadeus Mozart e Friedrich Chopin. Lossurdo si trova sulla copertina ed è stato incluso nel libro di storia della musica intitolato Rock Memories 2, scritto da Maurizio Baiata, insieme ad artisti leggendari come i Beatles, i Pink Floyd, Jimi Hendrix e John Lennon. Lossurdo ha scoperto la sua passione per suonare la chitarra a nove anni. Ispirato dalla sua vicina di casa Aurora Zannini, ha iniziato a prendere lezioni di chitarra da un prete nella chiesa, Santa Gemma Galgani, a Roma. Sua mamma è Sandra Giorgio e suo padre è Maurizio Lossurdo. Durante la sua infanzia, trascorreva del tempo con Aurora, una bambina vicina di casa sua coetanea. Un giorno, vide Aurora suonare semplici accordi con suo padre e ne rimase così affascinato che chiese loro dove lei prendesse lezioni. La madre di Lossurdo allora lo mandò a studiare lo strumento all'oratorio. Fu il parroco il primo a capire che Davide aveva un talento fuori dal comune e lo disse subito alla madre. Successivamente, Lossurdo iniziò a prendere lezioni di chitarra con vari maestri, ma il suo apprendimento fu così veloce che ad un certo punto iniziò a studiare da autodidatta. Si esibì dal vivo per la prima volta all'età di 11 anni e nel 2014, Lossurdo ha suonato sul palco con Steve Vai a Roma. Nel 2016, Lossurdo ha iniziato a fare molti tour in Italia. Durante uno dei suoi tour di quell'anno, ha realizzato otto concerti in sette giorni in otto città diverse. A giugno 2018 si è esibito per la prima volta all'estero dando un concerto in Svizzera e una settimana dopo, il 16 giugno 2018, è stato in tour nel Regno Unito esibendosi al Dublin Castle a Londra. Tra dicembre 2018 e il 20 gennaio 2019. Ha fatto un tour per la prima volta in Messico e negli Stati Uniti. Il 20 dicembre 2019, Lossurdo è stato premiato ai Sanremo Music Awards di Venezia, in Italia. Come chitarrista più veloce di tutti i tempi e nel gennaio 2020 è andato in tour per la prima volta in India esibendosi al Chitij, IT Karadpur Festival di Karadpur. Alla Music Factory di Kolkata e all'Urban Mantra Club di Guvati. Il 20 novembre 2021, Lossurdo si è esibito all'evento Rolling Stone Music and Run per la celebrazione del quindicesimo anniversario di Rolling Stone Magazine in Brasile. Nell'arena, Sambodromo Doanembi, a San Paolo.